Svolta nelle indagini sull'incendio della chiesetta di San Pio a Margherita di Savoia, in mattinata è stato arrestato Alessandro Chiarulli, 39 anni e originario di Barletta, accusato di aver dato alle fiamme nella notte dello scorso 18 ottobre la struttura in legno sconsacrata e adibita a salone parrocchiare nel quartiere Città Giardino di Margherita di Savoia, dove lo stesso 39enne risiedeva con la sua famiglia. Le indagini coordinate dal magistrato della procura di Foggia, Ileana Ramundo, hanno portato da subito a Chiarulli, che il giorno seguente all'incendio era stato ritrovato dai carabinieri della stazione di Margherita con i segni dell'ustione sul suo corpo. Interrogato dai militari alla presenza del suo avvocato, ha confessato che avrebbe compiuto quel gesto per difendere l'immagine del supermercato di sua proprietà, che si trova di fronte al terreno su cui sorgeva la chiesetta. Il motivo è molto semplice, credeva che la struttura in legno, futura sede della Caritas cittadina, avrebbe ospitato famiglie di immigrati. Invece la struttura, lo ricordiamo, era stata individuata dal comune in accordo con la diocesi di Trani e su richiesta dal prefetto della provincia di Barretta Andreatrani, Clara Minerva, per ospitare gli abusivi che abitavano nell'ex scuola media e nell'ex mercato coperto, due strutture comunali che erano state sgomberate la stessa mattina dell'incendio.